Per ovvie ragioni nemmeno quest'anno ho potuto partecipare alla bella manifestazione del Coriolis e spero di rimediare il prossimo anno. Intanto vorrei fare le congratulazioni a tutti i organizzatori e partecipanti e soprattutto fare gli auguri di buone feste e buon Natale a tutti voi di Telemolise ma anche ai molisani in generale. Colgo questa occasione anche per congratularmi con loro per l'ottimo lavoro che stanno facendo per contrastare questo morbo. Speriamo che l'anno prossimo sia migliore e nel frattempo auguriamoci buon Natale e per quel che può valere buon anno nuovo.